Siamo al piano terra, in un ambiente dal sapore un po' futuristico, dove far sognare i nostri bambini e perché no poter anche noi tornare un po' bambini. La collezione in progress retro futuro dedicata per ripensare un ambiente espositivo rivolto alle nuove generazioni dove temporalità diverse si sovrappongono l'una all'altra. All'interno di questo ambiente si distingue il video di Beatrice Marchi, Story of a Girl Band, proiettato sul pavimento e originale davvero nella sua visione. Grazie a tutti.